Il primo lotto la cui gara scadrà il prossimo 17 dicembre sarà utile a rendere già autosufficiente la scuola per tornare alla piena funzionalità. Il secondo lotto riguarda invece la terza torre con la realizzazione di altre 27 aule per 59 classi complessive. La provincia di Pescara è a lavoro per garantire la piena regolarità degli esami degli studenti in altre sedi scolastiche cittadine. Bene, stiamo lavorando già da parecchi mesi insieme al Preside che lo ringrazio pubblicamente perché si è veramente messo a disposizione cercando con noi soluzioni migliori per i ragazzi per affrontare questo esame di Stato nel miglior modo possibile. Quindi ringrazio il Preside veramente con il cuore. Stiamo lavorando da tempo, come dicevo prima, per cercare di trovare la soluzione ma soprattutto per mettere i ragazzi in condizioni di affrontare questo esame di Stato. E la soluzione per l'esame di Stato oggi l'abbiamo trovata perché abbiamo trovato una struttura dove può ospitare le 12 quinte del Marconi con la segreteria, gli uffici di segreteria dove abbiamo la garanzia totale per la connettività perché la cosa importante era una struttura che garantisse questo per il bene dei ragazzi. Abbiamo fatto diverse valutazioni, diverse ipotesi e poi la scelta è ricaduta sul Major perché lì ci dà quella garanzia necessaria noi al Preside e a tutti. Dopo gli esami di Stato, Presidente, ci sarà da valutare anche il futuro di questa scuola? Sì, il futuro della scuola sicuramente, stiamo già lavorando da tempo e quando si prenderà una decisione condivisa con il Preside e con l'istituzione scolastica comunicheremo ufficialmente cosa si farà a settembre perché adesso è in atto alcune situazioni, stiamo valutando a 360 gradi ma stiamo lavorando per far rimanere la scuola ovviamente su Pescara che questa deve essere la priorità e la garanzia e di non dividere in tanti plessi. Quindi quando sarà ufficiale comunicheremo insieme la scuola al Consiglio d'Istituto la decisione presa.